Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale, io sono Anita e come sempre questo è lei Francesca e come sempre questo è Curiosando Lanzarote Prima di tutto dobbiamo fare gli auguri alla nostra carissima amica Rose, la moglie di Maxi per il suo compleanno, anche se in ritardo dovete perdonarci, quindi tantissimi tantissimi auguri da parte nostra Bene ragazzi io adesso vi lascio subito in compagnia delle immagini che vi ho registrato qui a Costa del Ghise e come sempre ci vediamo dopo Grazie a tutti 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 Grazie a tutti